Musica Oh Martin, è sempre la stessa storia, puoi pure smettere di metterla così Ma ma Claudia tesoro, no, non puoi farlo, non oggi, no Martin, ho già preparato tutto, devi praticamente non fare nulla Claudia, no, no tesoro, ti prego non andare, non lasciarmi da solo, no, è un incubo, non farlo Martin, non fare una sceneggiata del genere, sei il padre di tre figli, sei adulto No, sì, invece, sì, invece, no, Claudia, non farlo, non andare, ti prego, ci amiamo, no, non farlo Martin, stai esagerando, ok, sei il mio quarto figlio, no, non lo sono, sì, invece, no, no, non lo sono, no, no, mamma Martin, io ti lascio qui ora, ok, se c'è qualcosa di grave mi chiami, oh no, no, come faccio, come faccio Non ce la farò oggi mai, oh, ok, Martin, Martin, ce la fai, ce la fai Papà, sei pronta a fare il nostro babysitter? Oh no, no, non ce la faccio, non ce la faccio, Claudia Non andare, non andare, faccio tutto quello che vuoi, vado al lavoro tutti i giorni Aiuta, smettila, Martin, non rimani qui Ma non capisco, perché papà deve sempre fare così quando deve badare a noi, non è mica così grave Pensaci un attimo, tu Emma, io Julian, ma anche io sarei così impanicata Anna è ancora dai nonni, non può aiutarci Ma, ma tu ce la fai, ok, torno tra un'oretta Oh no, no, Claudia, no, 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 mai, mai, oh god Ok, ok, sono i miei bambini Ok, ok, ce la faccio, ce la faccio Ciao Emma, ciao Julian, siete i miei figli, no? Cosa volete fare oggi? Ah, ma perché parli così in modo strano, Martin? Sì, ok, avete tesoro Volete fare qualcosa di particolare? Restare a casa? Uscire? Oh, io voglio solo essere lasciati in pace, ok? Guardo un paio di video di Minecraft Oh, wow, vengo anch'io Ok, non pensavo Non volete fare colazione? Vabbè, andate pure Allora basta che mi lasciate in pace Oh, non pensavo Vabbè, meglio Cosa? Com'è possibile? Una cosa così grande è Minecraft? Sì, me lo chiedo anch'io Non lo so, penso che ci abbia voluto davvero tanto Esce anche l'acqua Ah, Minecraft diventa di nuovo laiosa Io vado a vedere di là Papà? Papà? Ehi Alzati papà Sei il nostro babysitter Non puoi dormire I babysitter sono pagati Non puoi Eh, ma Papà sta dormendo? Avrei un'ideona Certo che sta dormendo Dormi sempre Si annoia con noi, ecco Ho qualcosa di molto carino Cosa? Qualcosa di molto carino? Cosa stai dicendo? Niente esperimenti No, no, no Non ti preoccupare Abbiamo bisogno Della piscina Ahà Sarà una cosa fantastica Tostica Ok, ok E mal 3 1 2 3 Papà 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 Oh no Spermesso Spostati Spermesso Arriba Julian! Molto bene, molto bene. Sembra l'ultima volta, ma un altro colore. Sì, ho detto che sarebbe stato rosso, ma non è rosso. Rosso sono i miei capelli. Julian, ora arrivo io! Non è acqua, quindi vabbè. Vabbè, per favore, chi vuole... Oh, devo pulire questo tutto. Chi vuole nuotare qui dentro? Papà, te l'ho detto, che qui non è acqua, non si nuota. Sì, papà, vedi, vedi? Sono molto, molto pieno. Wow, fantastico. Oh, no, 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 non mangiatelo, ok? Sì, papà. Eh? Oh, hai scoperto già tutto? È una sorpresa, Julian! Oh, esattamente. Wow! Ho un paio solo nascosti qui. E poi, se vuoi, puoi guardare qui. Oh, no, no. Ma cos'è questa? Oh! Ah, mi stai prendendo in giro, però. Julian, non c'è nessuna sorpresa. Non so, ecco. Eh, ma pensi davvero che io abbia così tanti soldi da poter pensare a una tua sorpresa, a fare dei giochi. Ah, insomma. Bene, uno ho trovato. Buon divertimento, allora. Ma sorprese non ne vedo. Ah, qui c'è un altro. Wow, enorme! Enorme? Eh, sì! Sono già tre! Wow, Julian! Quanti li hai messi dentro? Oh, bambini, sì, sì. Lo sapevo, bambini. Se voi siete in piscina, devo controllare tutto, perché, insomma, io sono vostro padre, quindi controllerò se si può andare in questa piscina, sì o no. Sì, sì. Come no, papà? Controllare. Cosa devi controllare qui? Vuoi solamente fare una notata al posto nostro? Julian, no, 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 no. Io controllo solo. Voglio che siate sicuri. Oh, che bello. Ah, lo sapevo, l'hai detto. Anche l'altra volta ti è piaciuto. Se vuoi, puoi cercare anche tu le uova. No, no, sono tutte mie le uova. Sì, hai sentito? Sì, non la farò mai. Oh, va bene, che bello. Dobbiamo togliere prima che vostra madre toglie. Torniamo ancora un paio di minuti. Perché ho combinato tutto questo? E i bambini non hanno nemmeno voluto la colazione. Ma dove sono finiti tutti? Sono magari in piscina. Ehi. Oh, Julian, Emma e Martin. Cosa state facendo all'impiscina? Cos'è questa cosa schifosa? Mamma, sei tornata? È Jellybath. Guarda. Però, dobbiamo cercare le uova. Claudia, sei già tornata? Babbini, ma che cos'è questa? Non è acqua? Mi prendete in giro. Pensavo fosse acqua. Oh, non lo sapevo. Oh, no, no, no. Cosa, papà? Dicevi che ti piace un sacco? Mmh, ok. Martin, ma cosa stai facendo? Sì, hai ragione. Ah, fate piano, mi sto concentrando. Devo trovare l'ultima uova. Julian, dove sono? no.